Frank. Frank aveva sperato di trovare i fuochi d'artificio. O almeno un grosso cartello con la scritta «Bentornato a casa». Più di tremila anni prima, il suo antenato greco, il buon vecchio Periclimeno Mutaforma, era salpato verso oriente con gli Argonauti. Secoli dopo, i discendenti di Periclimeno avevano servito nelle legioni romane orientali. Poi, attraverso una serie di disavventure, la famiglia era finita in Cina e, infine, nel ventesimo secolo, era emigrata in Canada. Adesso Frank era tornato in Grecia e ciò significava che la famiglia Zhang aveva compiuto la circumnavigazione del globo terrestre. Sembrava un buon motivo per festeggiare, ma l'unico comitato di accoglienza che Frank trovò fu uno stormo di arpie selvagge e fameliche che attaccò la nave. Si sentì un po' a disagio ad abbatterle con l'arco, continuava a pensare a Ella, la loro amica arpia di Portland, una creatura di un'intelligenza fuori dal comune. Ma quelle arpie non erano Ella. Le avrebbero tranquillamente staccato la faccia a morsi. Quindi le fece saltare in aria, trasformandole in nuvole di polvere e piume. Il paesaggio greco era altrettanto inospitale. Le colline erano costellate di massi tondi e cedri rachitici che luccicavano nell'aria caliginosa. Il sole picchiava come se la campagna fosse uno scudo di bronzo celeste da plasmare a martellate. Anche da una trentina di metri di altezza, Frank sentiva il ronzio delle cicali sugli alberi, un suono sonnolento e irreale che gli appesantiva gli occhi. Perfino le voci duellanti del dio della guerra sembravano assopite nella mente. Non lo avevano quasi più infastidito da quando l'equipaggio era entrato in Grecia. Gocce di sudore gli scivolarono lungo il collo. Dopo il congelamento sotto coperta a opera di quella folle dea della neve, Frank era convinto che non avrebbe mai più sentito caldo. E invece aveva la maglietta fradicia sulla schiena. Che affa! Leo fece un gran sorriso davanti al timone. Mi prende nostalgia di Houston. Che dici, Hazel? L'unica cosa che ci manca adesso sono le zanzare giganti. E poi è proprio come il Golfo del Messico. Grazie mille, Leo, brontolò lei. Probabilmente adesso ci attaccheranno dei mostri zanzara dell'antica Grecia. Frank li osservò, meravigliandosi di come la tensione fra i due fosse scomparsa. Qualunque cosa fosse accaduta a Leo nei cinque giorni di esilio, lo aveva cambiato. Continuava a fare lo spiritoso, ma Frank percepiva qualcosa di diverso in lui, come una nave con una chiglia nuova. Magari la chiglia non la vedi, ma intuisci che c'è, da come la nave solca le onde. Leo non sembrava più tenerci molto a irritarlo. Giacchierava tranquillamente con Hazel, senza scoccarle più quegli sguardi trassognati che lo avevano sempre messo a disagio. Hazel aveva comunicato a Frank, in privato, quella che secondo lei era la soluzione al mistero. Leo ha conosciuto una ragazza. Come? Dove? Frank era perplesso. E tu come fai a saperlo? Hazel aveva sorriso. Lo so e basta. Come se fosse una figlia di Venere, invece che di Plutone. Ovviamente Frank era sollevato che Leo non ci provasse più con Hazel, ma era anche un po' preoccupato per lui. Certo, avevano avuto degli screzi, ma dopo tutto quello che avevano passato insieme non voleva vederlo con il cuore spezzato. La voce di Nicolo distolse da quei pensieri. Guardate! Come sempre, il figlio di Ade era pollaiato in cima all'albero di Trinchetto. Indicò uno scintillante fiume verde che serpeggiava fra le colline, a un chilometro di distanza. Portate la nave in quella direzione! Siamo vicini al tempio! Molto vicini! Pulmini neri squarciarono il cielo, lasciando puntini scuri davanti agli occhi di Frank e facendogli drizzare i peli sulle braccia. Prendete tutti le armi! Jason si legò in vita il cinturone della spada. Leo, portaci più vicino, ma non atterrare! Nessun contatto con la Terra se non è necessario! Piper, Hazel, i cavi d'ormeggio! Subito! Disse Piper. Hazel diede a Frank un buffetto sulla guancia e corse a darle una mano. Frank! gridò Jason. Scendi a cercare il coach! Sì, signore! Il figlio di Marte corse di sotto e si diresse verso la cabina di Edge. Mentre si avvicinava alla porta, rallentò. Non voleva coglierlo di sorpresa. Edge aveva il vizio di lanciarsi sulla passerella impugnando la mazza da baseball, al minimo sospetto che ci fossero aggressori a bordo. Per un pelo non gli aveva staccato la testa un paio di volte, mentre andava in bagno. Frank sollevò la mano per bussare. Poi si rese conto che la porta era socchiusa. Sentì il satiro parlare all'interno. Dai, piccola! Lo sai che non è vero! Frank si bloccò. Non voleva origliare, ma non sapeva come comportarsi. Hazel gli aveva accennato di essere preoccupata per Edge. Secondo lei c'era qualcosa che lo impensieriva, ma Frank non aveva prestato grande attenzione alla cosa fino a quel momento. Non aveva mai sentito il coach parlare in tono così gentile. Di solito gli unici suoni che provenivano dalla sua cabina erano quelli degli eventi sportivi in tv, oppure grida del tipo «Sì, falli fuori!» durante la visione dei film di arti marziali. Ma Frank era sicuro che non avrebbe mai chiamato piccola Chuck Norris. Un'altra voce parlò. Una voce femminile, ma malapena audibile, come se giungesse da molto lontano. «Sì, senz'altro!» promise il satiro. «Ma stiamo per entrare in battaglia!» Si schierì la voce. «E le cose potrebbero mettersi male! Tu evita i pericoli! Tornerò! Lo giuro!» Frank non ne pote più. Bussò forte. «Ehi, coach!» La conversazione si interruppe. Frank contò fino a sei. La porta si spalancò. Edge se ne stava all'impiede accigliato, con gli occhi iniettati di sangue, come se avesse guardato troppa televisione. Indossava il solito berretto da baseball e i pantaloncini corti, con una corazza di cuoio sulla maglietta e un fischietto appeso al collo, come se fosse pronto a chiamare un fallo contro gli eserciti di mostri. «Jung, cosa vuoi?» «Ehm, ci stiamo preparando a combattere. Abbiamo bisogno di lei sopra coperta. Il pizzetto del satiro fu scosso da un fremito. Sì, ovvio!» Sembrava stranamente poco entusiasta alla prospettiva di una battaglia. «Non volevo… voglio dire… ho sentito che stava parlando!» balbettò Frank. «Era un messaggio iride?» Dall'espressione che gli si dipinse in volto, Edge fu tentato di mollargli un ceffone. Poi il satiro afflosciò le spalle. Trasse un sospiro e tornò dentro, lasciando Frank sulla soglia come un ebete. Edge sprofondò nella cucetta. Mise una mano sotto il mento e scrutò con aria cupa la cabina. La stanza sembrava un dormitorio del college dopo un uragano. Il pavimento cosparso di biancheria, spuntini o vestiti, con i satiri non si poteva mai dire. DVD e piatti sporchi, sparsi intorno alla TV sul cassettone. Ogni volta che la nave beccheggiava, una serie di oggetti rotolava sul pavimento. Palloni da football americano e da pallacanestro, palle da baseball e, chissà perché, un'unica pallina da biliardo. Ciuffi di peli di capra fluttuavano per aria raggruppandosi a mucchi sotto i mobili. Dopo i gatti di polvere, le capre di polvere. Sul comodino del satiro c'erano una ciotola d'acqua, una pila di dracme d'oro, una torcia e un prisma di cristallo per creare gli arcobaleni. Edge si era evidentemente organizzato per mandare messaggi iride a volontà. A Frank tornò in mente ciò che Piper gli aveva detto. Edge si era fidanzato con una ninfa delle nuvole. Come si chiamava? Melinda? Millicent? No, Melly! «La sua ragazza, Melly, sta bene?» si azzardò a chiedere Frank. «Non sono affari tuoi!» tagliò corto Edge. «Ok.» Il satiro alzò gli occhi al cielo. «E va bene! Se proprio lo vuoi sapere! Sì, stavo parlando con Melly, ma non è più la mia ragazza.» «Oh!» Frank si sentì sprofondare. «Vi siete lasciati?» «No, stupido che non sei altro! Ci siamo sposati! È mia moglie!» Frank sarebbe stato meno sorpreso se Edge lo avesse schiaffeggiato. «Cue, cioè... è fantastico! Quando... come...» «Non sono affari tuoi!» gridò il satiro. «E... va bene!» «Alla fine di maggio!» disse Edge. «Poco prima che Largo 2 salpasse! Non volevamo farne una questione di stato!» A Frank sembrò che la nave beccheggiasse di nuovo, ma forse era solo un'impressione. La marea di attrezzature sportive rimase ferma contro la parete in fondo. Edge era sposato da tutto questo tempo. Pur essendo uno sposino novello aveva accettato di partecipare alla missione. Non c'era da meravigliarsi che telefonasse così spesso a casa. Non c'era da meravigliarsi che fosse tanto irritabile e bellicoso. Eppure... Frank avvertiva che nell'aria c'era dell'altro. Dal tono del satiro durante il messaggio iride gli era sembrato che discutessero di un problema. «Non era mia intenzione origliare», insistette. «Ma... me li sta bene?» «Era una conversazione privata!» «Eh sì, ha ragione!» «Ne va bene! Te lo dico!» Edge si strappò un po' di peli da una coscia e li lasciò fluttuare nell'aria. «Ha preso una pausa dal lavoro ed è andata al campo mezzosangue per l'estate! Perché abbiamo pensato...» Gli si incrinò la voce. «Abbiamo pensato che sarebbe stato più sicuro! Adesso è bloccata lì, con i romani che stanno per attaccare! È molto spaventata!» All'improvviso, Frank fu più che mai consapevole del distintivo da centurione sulla propria maglietta e del tatuaggio con la scritta SPQR che aveva sull'avambraccio. «Mi dispiace», mormorò, «ma dato che è uno spirito delle nuvole, non potrebbe semplicemente... sì, fluttuare via!» Il satiro rinserrò la presa sulla mazza da baseball. «Normalmente sì, ma ecco... è in condizioni... delicate. Non sarebbe sicuro!» «Delicate?» Frank sgranò gli occhi. «Sta per avere un bambino? Sta per diventare papà, coach!» «Urla un po' più forte, bofonchiò Edge. Non credo che ti abbiano sentito in Croazia!» Frank non poteva fare a meno di sorridere. «È fantastico! Un piccolo di satiro? O forse una ninfa? Sarà un papà eccezionale!» Non avrebbe saputo dire il perché, vista la passione del satiro per le mazze da baseball e le arti marziali, ma ne era certo. Edge si accigliò ancora di più. «La guerra è imminente, Zhang! Non esiste un posto sicuro! Dovrei stare accanto a Melly! Se io dovessi morire da qualche parte...» «Ehi, non morirà nessuno!» Il satiro lo guardò dritto negli occhi e Frank capì che non ci credeva. «Ho sempre avuto un debole per i figli di Ares», brontolò Edge, «o di Marte o quel che è! Forse è per questo che non ti disintegro, anche se mi fai così tante domande!» «Ma io non stavo chiedendo...» «E va bene, te lo dico!» Edge sospirò di nuovo. «All'epoca in cui ho ricevuto il mio primo incarico come reclutatore, mi trovavo nell'Arizona più sperduta! Avevo con me una ragazzina, Clarisse!» «Clarisse?» «Una delle tue sorelle», riprese Edge. «Figlia di Ares, violenta, maleducata, piena di potenzialità!» «In ogni caso, mentre ero fuori, ho fatto questo sogno!» «C'era mia madre!» «Lei...» «Lei era nei guai!» «E aveva urgente bisogno del mio aiuto!» «Ma io mi sono detto...» «Ma che? È solo un sogno!» «Chi farebbe mai del male a una vecchia e dolce ninfa delle nuvole?» «E poi devo portare al sicuro questa mezzo sangue!» «Così ho concluso la missione e ho portato Clarisse al campo mezzo sangue!» «Dopodiché sono andato a cercare mia madre!» «E sono arrivato troppo tardi!» Frank guardò il ciuffo di peli di capra che si posava sopra una palla da basket. «Cosa le è successo?» Edge scrollò le spalle. «Non ne ho idea! Non l'ho più vista! Se fossi stato accanto a lei, se fossi tornato prima...» Frank avrebbe voluto dire qualcosa per consolarlo, ma non sapeva cosa. Aveva perso la madre nella guerra in Afghanistan e sapeva come potessero sembrare vuote parole come «mi dispiace!» «Stava facendo il suo lavoro!» disse. «Ha salvato la vita di una semidea!» Edge sbuffò. «Adesso mia moglie e il mio bambino sono in pericolo dall'altra parte del mondo! E io non posso fare niente per aiutarli!» «Sta già facendo qualcosa!» replicò Frank. «Siamo qui per impedire ai giganti di risvegliare di Gea! Questo è il modo migliore per proteggere i nostri cari!» «Sì, sì! Forse è davvero così!» Frank avrebbe voluto fare di più per sollevare il morale di Edge, ma con quella chiacchierata aveva cominciato a preoccuparsi di tutte le persone che lui aveva lasciato a casa. Si domandò chi avrebbe difeso il campo Giove con la legione che marciava verso Est, da tutti i mostri che Gea stava sguinzagliando dalle porte della morte. Si preoccupò dei suoi amici della quinta cohorte e di come dovevano sentirsi mentre Ottaviano ordinava loro di marciare sul campo mezzosangue. Frank avrebbe voluto essere là, ma anche solo per cacciare un orsacchiotto in gola a quel viscido augure. La nave si inclinò in avanti. Le varie attrezzature sportive di Edge rotolarono sotto la cuccetta. «Stiamo scendendo!» osservò il satiro. «Sarà meglio salire sul ponte!» «Va bene!» disse Frank, con la voce roca. «Sei un romano ficcanaso, Giang! Ma muoviamoci! E guai a te se ne fai parola con gli altri, chiacchierone!» Mentre gli altri legavano gli ormeggi aerei, Leo afferrò Frank e Hazel per un braccio. Li trascinò verso la balista di poppa. «Ok, ecco il piano!» Hazel strinse gli occhi. «Detesto i tuoi piani! Mi serve quel pezzo di legno magico!» Frank per poco non si strozzò. Hazel arretrò ed istinto coprì la tasca del giubbotto. «Leo, non puoi! Ho trovato una soluzione!» Leo si girò verso Frank. «Devi scegliere tu, bello! Ma io posso proteggerti!» Frank pensò a quante volte aveva visto le dita di Leo prendere fuoco. Una mossa falsa e il figlio di Efesto avrebbe potuto incenerire il pezzo di legno che controllava la sua vita. Per qualche strano motivo, però, non aveva paura. Da quando aveva sgominato i mostri mucca a Venezia, non aveva quasi più pensato a quanto fosse fragile la linea della vita. Sì, certo, la più piccola scintilla di fuoco avrebbe potuto ucciderlo, ma era anche sopravvissuto in circostanze impossibili, rendendo orgoglioso suo padre. Frank aveva deciso che, qualunque fosse il suo destino, non se ne sarebbe preoccupato. Avrebbe fatto il meglio che poteva per aiutare i suoi amici. E poi, Leo sembrava serio. Nei suoi occhi c'era ancora quella strana malinconia, come se si trovasse in due luoghi allo stesso tempo. Ma non c'era niente nella sua espressione a suggerire che scherzasse. «Daglielo, Hazel!» disse Frank. «Ma…» Hazel trasse un respiro profondo. «E va bene!» Tiro fuori il pezzo di legno e lo porsi a Leo. Era ancora annerito sull'estremità che Frank aveva usato per bruciare le catene gelate che imprigionavano Tana Tossina Alaska. Da una tasca della cintura degli attrezzi, Leo estrasse un pezzo di stoffa bianca. «Guardate!» Frank corrugò la fronte. «Un fazzoletto?» «Una bandiera bianca?» tirò a indovinare Hazel. «No, miscredenti! È una sacca fatta con una stoffa fantastica! Un regalo di una mia amica!» Leo infilò il legnetto nella sacca, che chiuse facendo un nodo con un filo di bronzo. «Il con orgoglio!» «Ci è voluto un po' a infilarlo nella stoffa, ma la sacca non si apre, a meno che uno non voglia! Lascia passare l'aria come qualsiasi altra stoffa, perciò il legnetto non è sigillato, proprio come era nella tasca del giubbotto di Hazel!» Ehm… Hazel era confusa. «Quale sarebbe il vantaggio?» «Tienilo tu, così non ti faccio venire un colpo!» Leo lanciò la sacca a Frank, che per poco non se la fece sfuggire. Poi evocò nella mano destra una sfera di fuoco bianco. Sollevò l'avambraccio sinistro sopra le fiamme, sorridendo, mentre il fuoco gli lambiva la manica del giubbotto. «Visto? Non brucia!» Frank non moriva dalla voglia di contrariare qualcuno che teneva in mano una sfera di fuoco. Ma disse… «Tu sei immune al fuoco!» Leo alzò gli occhi al cielo. «Sì, ma devo concentrarmi se non voglio che i miei vestiti brucino! E non mi sto concentrando, visto? È un tessuto ignifugo al cento per cento! Il tuo legnetto non prenderà fuoco lì dentro!» Hazel sembrava perplessa. «Come fai a esserne sicuro?» «Oh, siete testardi, eh?» Leo spense il fuoco. «Immagino che ci sia solo un modo per convincervi!» Tese la mano verso Frank. «No, no!» Frank arretrò. All'improvviso, tutti i bei discorsi sulla capacità di accettare il proprio destino sembravano lontani. «Grazie, ma io… io non posso…» «Amico, devi fidarti di me!» Il cuore di Frank cominciò a battere all'impazzata. Si fidava di Leo? «Beh, certo!» Quando si parlava di motori, di stupidaggini. Ma ora c'era in ballo una vita!» Gli tornò in mente il giorno in cui erano rimasti bloccati nell'officina sotterranea, a Roma. Gea aveva promesso che sarebbero morti lì dentro. Leo invece aveva promesso a Hazel e Frank che li avrebbe tirati fuori da quella trappola. E lo aveva fatto. Adesso Leo parlava con la stessa sicurezza. «E va bene!» Frank gli porse la sacca. «Cerca di non uccidermi!» La mano di Leo prese fuoco. La sacca non si annerì né bruciò. Frank si aspettava che qualcosa andasse per il verso storto. Contò fino a venti, ma era sempre vivo. Gli sembrò che un blocco di ghiaccio gli si sciogliesse dietro lo sterno. Era un macigno congelato di paura a cui si era talmente abituato da non pensarci neanche più. Fino a quel momento, nell'istante in cui lo sentì sparire. Leo spense il fuoco. «Allora, chi è il tuo miglior amico?» «Non gli rispondere», disse Hazel. «Ma Leo è stato davvero incredibile!» Leo fece un gran sorriso. «Chi vuole questo pezzetto di legno?» «Adesso è diventato ultrassicuro!» «Lo tengo io», dichiarò Frank. Hazel storse le labbra. Guardò in basso, così magari Frank non si sarebbe accorto che c'era rimasta male. Aveva protetto quel legnetto durante tante battaglie difficili. Era un segno di fiducia fra loro, un simbolo del loro rapporto. «Hazel, tu non c'entri», disse Frank nel tono più gentile possibile. «Non so spiegarlo, ma ho la sensazione che dovrò farmi avanti quando saremo nella casa di Ade. Devo portare da solo il mio fardello». «Capisco». Hazel annui. I suoi occhi erano carichi di apprensione. È solo che... sono preoccupata.» Leo gettò la sacca a Frank, che se la legò intorno alla cintura. Era strano portarselo dietro in modo così esplicito dopo mesi che lo teneva nascosto. «Leo...» «Grazie», disse Frank, anche se gli sembrava un commento inadeguato rispetto al dono ricevuto. Leo sorrise. «E' a questo che servono gli amici geniali, no?» «Ei ragazzi!» gridò aperto da dove arrivavano i fulmini neri. L'argodù era sospesa proprio sopra il fiume. A qualche centinaio di metri sulla collina più vicina si ergeva un mucchio di rovine. Non sembravano granché semplici mur accadenti che circondavano la struttura in pietra calcarea di qualche edificio, ma da un punto imprecisato all'interno delle rovine, tentacoli di ettere nero si levavano a pirale verso il cielo, come un calamaro di fumo che spunti dalla tana. In quello stesso istante una saetta di energia scura squarciò l'aria, facendo tremare la nave e sprigionando una fredda onda d'urto nel paesaggio intorno. «Il Necromantion», disse Nico. «La casa di Ade». Frank si appoggiò al parapetto. Era troppo tardi per suggerire di tornare indietro. Cominciava a sentire nostalgia dei mostri contro cui aveva combattuto a Roma. «Cavoli!» Perfino dare la caccia alle velenose mucche veneziane gli era sembrato più divertente che starsene lì. Piper serrò le braccia. «Mi sento vulnerabile a fluttuare quassù in questo modo. Non potremmo atterrare sul fiume?» «Direi di no», rispose Hazel. «Quello è l'acheronte». Jason socchiuse gli occhi al sole. «Credevo che l'acheronte si trovasse negli inferi». «È così, ma le sorgenti sono nel mondo dei mortali. Il fiume che vedete sotto di noi scende sottoterra alla fine, dritto nel regno di Plutone, di Ade. Atterrare con una nave di semidei su quelle acque…» «Sì, restiamo quassù», decise Leo. «Non voglio acquazombi sul mio scafo». Lungo il fiume, a mezzo chilometro di distanza, alcune barche da pesca avanzavano lentamente. I pescatori probabilmente non conoscevano né erano interessati alla storia del fiume, pensò Frank. «Che bello essere un comune mortale». Accanto a lui, Nico di Angelo sollevò lo scettro di Diocleziano. La sfera scintillava di luce violacea, come in sintonia con quella tempesta oscura. Pur essendo un cimelio romano, lo scettro preoccupava Frank. Se davvero aveva il potere di evocare una legione di morti? Beh, lui non era sicuro che fosse una grande idea. Jason una volta gli aveva detto che i figli di Marte avevano un dono simile. A quanto pareva, Frank era in grado di chiamare in aiuto gli spiriti dei soldati che avevano perso una qualsiasi guerra, per combattere al suo fianco. Lui non aveva mai avuto molta fortuna con quel potere, probabilmente perché ne era troppo spaventato. Aveva paura di potersi trasformare in uno di quei fantasmi, nel caso i ragazzi avessero perso la guerra, condannato per l'eternità a scontare i propri insuccessi, sempre che restasse qualcuno a evocarlo. Quindi, Nico, Frank indicò lo scettro. Hai imparato a usare quel coso? Lo scopriremo. Il figlio di Ade fissò i tentacoli di oscurità che ondeggiavano fra le rovine. Non ho intenzione di provare finché non sarà necessario. Le porte della morte stanno già facendo gli straordinari per resuscitare i mostri di Gea. Una qualsiasi altra attività che risveglia i morti potrebbe danneggiarle in modo permanente, lasciando uno squarcio che non potrebbe mai più essere richiuso. Edge grugnì. Detesto gli squarci nel mondo. Andiamo a far saltare qualche testa di mostro. Frank osservò l'espressione arcigna del satiro, che all'improvviso ebbe un'idea. Coach, lei dovrebbe restare a bordo a coprirci con le baliste. Edge aggrottò la fronte. Rimanere qui? Io? Sono il vostro miglior soldato! Potremmo aver bisogno del supporto aereo, replicò Frank. Come a Roma! È stato lei a salvarci le Bracas. Ma non aggiunse. E poi vorrei che tornasse vivo da sua moglie e da suo figlio. Edge evidentemente afferrò il messaggio. Distese la fronte, un'espressione di sollievo negli occhi. Beh, bofonchiò, in effetti qualcuno vi dovrà pur salvare le Bracas. Jason diede una pacca sulla spalla del satiro. Poi guardò Frank e annui in segno di approvazione. Questione risolta. Tutti gli altri alle rovine. È arrivato il momento di imbucarsi alla festa di Gia!